Un femminicidio sventato, un episodio gravissimo quello avvenuto a Porto d'Ascoli e che ha portato la polizia ad arrestare un 32enne che poco prima aveva picchiato l'ex moglie fino a farla svenire. L'uomo deve rispondere delle accuse di violazione di domicilio, lesioni personali, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Tutto è accaduto nella serata di giovedì e solo grazie al tempestivo intervento di una volante del commissariato di San Benedetto sono state evitate situazioni più gravi. L'uomo dopo aver malmenato selvaggiamente la moglie fino a farle perdere i sensi ha cercato infatti di aggredire anche la propria madre che era intervenuta per calmarlo. A far esplodere la sua rabbia incontrollata una discussione sull'orario di affidamento dei figli e dopo aver sfondato la vetrata del portono e dell'appartamento della suocera si era messo in cerca proprio dei bambini che si erano nascosti terrorizzati di fronte alla reazione incontrollata del genitore che voleva portarli via. L'ennesimo episodio di violenza all'interno della relazione affettiva tutti noi ci chiediamo e tutti si chiedono perché si scatena la violenza il punto fondamentale dove bisogna in qualche modo concentrarsi è il fatto che la violenza è una questione di cultura ma che cosa si intende per cultura? Per cultura si intende il fatto che ancora nel 2021 si tramanda di generazione generazione è una modalità di gestione delle relazioni assolutamente tossica, una modalità del far west. La relazione ha il suo problema, trova il problema all'interno delle divergenze, quando vogliamo cose diverse. Ora questa modalità per gestire questa crisi in qualche modo è una modalità che non permette l'esistenza di entrambi gli interlocutori, è una modalità prevaricatoria, è il fallimento, la chiamo però usiamo una modalità, una mappa mentale che ci porta fuori strada. Quindi il problema è in qualche modo è cambiare questa cultura dicotomica. Il 32enne è stato bloccato non senza difficoltà dagli agenti e condotto negli uffici del commissariato. Ora si trova recluso nel carcere di Marino del Tronto. La questura di Ascoli ha da tempo attivato tutte le procedure per il cosiddetto codice rosso, con i suoi uffici sul territorio sempre aperti per denunciare problematiche relative alle violenze di genere.